La Giunta Comunale di Chieti detta le nuove linee guida per il servizio di pronto intervento sociale, braccio operativo in emergenza dell'amministrazione istituito al fine di risolvere i casi di emergenza di varia natura. Il sindaco Ferrara e l'assessore Giannini affermano aggiornamento doveroso per raggiungere più cittadini in difficoltà ed è necessaria la rotazione delle persone a cui bisogna dare sostegno, soprattutto per le nuove povertà. Il pronto intervento sociale è stato istituito nel 2021 in piena emergenza Covid, spiega l'assessore Alberta Giannini. Aveva oggi la necessità di essere rimodulato su quelle che sono le nuove esigenze dei nostri concittadini, per cui la delibera presentata da me ieri in giunta e approvata dai miei colleghi all'unanimità prevede per esempio la possibilità che i cittadini possano accedere agli aiuti economici come il nucleo familiare per un massimo di 500 euro, con le dovute flessibilità rispetto a nuclei familiari che sono veramente senza paracadute economico. Questo perché io ho chiesto dal primo giorno di consentire che ci fosse l'allargamento della platea dei nostri concittadini che vivono un momento di fragilità, perché la natura stessa del pronto intervento sociale non può essere strutturato come aiuto economico, ma anzi deve prevedere la possibilità che tutti i nostri concittadini che invito, tra parentesi, arrecarsi presso gli uffici dei servizi sociali e che saranno sicuramente sostenuti. Quindi il limite di 500 euro prevede quindi in massimo tre accessi e abbiamo anche ridefinito le competenze dei nostri partner, che sono la capanna di Betremme, Luca Fortunato, la Croce Rossa e la Caritas. Quindi la Caritas si occuperà della distribuzione dei beni alimentari, del pagamento degli alcuni affitti e di tutto quello che è il sostegno economico. La Croce Rossa ha un compito altrettanto nobile che è quello di prevedere e provvedere alle spese sanitarie dei nostri concittadini, quindi farmaci da banco, presidi ospedalieri e quanto altro possa essere utile.